Siamo visti un paio di settimane fa con Antonio, infatti già mi ha detto di questo incontro, infatti è molto contento di ritrovarlo fuori da qua e adesso saremo tutti ad orecchie ben aperte ad ascoltare quello che c'è da dire, perché a parte qualcosa già sappiamo, ma personalmente importante, talmente che ha migliorato il calcio italiano in questi anni che abbiamo soltanto da apprendere cose interessanti e che siano importanti per tutti noi e per il calcio italiano in generale. Lui non è mai sereno, lui è sempre agitato, l'ho visto tranquillo, però ci tiene molto la nazionale, ci tiene a far bene perché nessuno ne ha quello di vincere, far bene, strappare applausi perché l'ho sempre fatto e vuole sbalordire giustamente anche la nazionale dopo degli anni bui che abbiamo avuto. Mister, c'è molto bianconero oggi qua, lei la seguì ovviamente ancora la Juventus, che impressione le sta facendo il campionato della squadra di Allegri? La squadra di Allegri sono molto contento, prima da tifoso e poi perché ero sicuro che Allegri che essendo un ottimo allenatore ha portato avanti un lavoro già fatto molto bene da Antonio, più o meno mettendoci qualcosa di suo, quindi è un'unione che veramente ha fatto divertire il popolo bianconero e speriamo che vada avanti anche in Coppa. Non si notano le differenze? Tra Juve di Conte e Allegri si noto in particolare, adesso non stiamo qui a giudicare perché non sarebbe bello né per il primo né per il secondo, hanno fatto tutte e due cose straordinarie, il primo le ha realizzate e il secondo, parlo di Allegri, le sta realizzando adesso facendo i giusti scongiuri speriamo che condividi su questa strada perché stanno giocando molto bene, hanno dei giocatori con un talento straordinario e speriamo di trattenerli in Italia per molto tempo. Come Pugba, per esempio? Pugba, Tevez, ci sono talmente tanti che è veramente piacevole vedere, soprattutto la Juventus giocare è piacevole, molto piacevole vedere, anche altre squadre naturalmente, però magari se qualcuno è in difficoltà, da qualcuno ci aspettavamo magari in maggiore continuità di risultati e la mancanza di questi fanno sì che la Juve sia già a sette punti di distanza.